Michele Ferri, ex difensore del Cagliari, ha rilasciato delle dichiarazioni per una trasmissione radiofonica. Vi riportiamo le sue dichiarazioni sulla partita contro la Juventus e sulla sua esperienza in rosso-blu. Le sue parole. Ragneri, scidea da fuori, lo conosciamo tutti. Persona leale e carismatica. Grande allenatore che sta dando un contributo importante. Il Cagliari è fortunato ad averlo. Il mio Cagliari stappa tra le più importanti della mia carriera. Ho potuto giocare in Serie A. Sono anni che io mi porto nel cuore per la possibilità. Giampaolo portava cose nuove all'epoca come le metodologie. Era la novità. Le novità l'hanno confermato nonostante qualche passo falso. Alcune dinamiche non hanno giocato a suo favore. Per me resta un grande allenatore nonostante gli esoneri. Io, quando sei un giocatore certe cose non le capisci. Devi viverle tu. Differenze. Da giocatore pensi al tuo compito e a te stesso. Da allenatore torni a casa e pensi al prossimo allenamento oltre che a 25 teste e a parlare con presidente eccetera. Per smettere di pensare da giocatore devi cambiare visione e mentalità. 2-0-0-7-8 con Ballardini. Annata straordinaria. Abbiamo fatto un miracolo a partire dalla rimonta sul Napoli con gol di Conti che rimane nella storia. Bella partita. Il Cagliari farà la sua prestazione perché queste squadre si preparano da sole. Risultato? Diciamo X così è contento sia il Cagliari che Mister Allegri. Il mio Cagliari Juventus si ne ricordo una in particolare. 1-1 con pareggio di Cannavaro al 95 gradi. Eravamo molto arrabbiati. Anche Chimenti che era ex Abe John. Sul 1-0 mancava un rosso solare a Camoranesi, gomitata sul naso ad Agostini davanti all'assistente. Espulsione sacrosanta non data poi hanno conquistato un corner di pareggio. A fine partita ci fu della bagarre con la vecchia dirigenza della Juventus che non nominiamo neanche.